I'm reading from Matthew chapter 24, verso 36, è la mia preghiera che il Signore vi dà comprensione della Sua parola. Non è una cosa nuova, ma è la cosa vecchia che lui dice che noi ci dobbiamo ricordare. Finché noi vediamo che i giorni si avvicinano, quindi io vi ricordo di ciò che già sapete. Quindi se tu lo stai facendo, lo stai tenendo, lo tieni bene, se stai perdendo il focus, così che puoi tornare, se le tue ginocchia si indebolissero, così che le puoi rafforzare. Perché sorella, fratello mio, Gesù, sicuramente verrà. Amen. Amen. Sicuramente verrà. Lui verrà sicuramente. Lo dico ancora? Di sicuro lui verrà. La tua fede in esso, il tuo dubbio, non cambierà nulla. Lui verrà di sicuro. Girati verso qualcuno e gli dici, sicuramente Gesù verrà. Tell somebody sicuramente, Gesù verrà. 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 Assuramente Gesù può tornare. Lo leggo. Ma riguardo a questo giorno o giorno, nessuno lo conosce. Nei non anche gli angeli del cielo, né l'Eso, ma solo il Vierge. Mattio 24, versetto 36. dice ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa neppure gli angeli del cielo neppure il figlio ma il padre solo come fu ai giorni di Noè così sarà la venuta del figlio dell'uomo infatti come nei giorni prima del diluvio si mangiava, si beveva si prendeva moglie e si andava marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca and they were unaware that is the word I want to draw your attention they were unaware versetto 39 dice e la gente non si accorse until the flood came and sweep them all away so would be the coming of the Son of Man questa è la parte dove vorrei attirare la vostra attenzione e la gente non si accorse di nulla finché venne diluvio che portò via tutti quanti bambini 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 ragazzi ci ha detto scrivi non ci ha detto bisogna parare se io vedi uno che para senza scrivi ci dai un regalo amè come che ci vuole tanti beni sarà un grande regalo amè 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 l'ego di nuovo versetto 39 and they were unaware until the flood came and sweep them all away so would be the coming of the Son of Man e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti così sarà anche all'avvenuta del figlio dell'uomo then two men will be in the field one will be taken and one left allora due saranno nel campo l'uno sarà preso e l'altro lasciato two women will be grinding at the mail one will be taken and one left due donne macineranno al molino l'una sarà presa e l'altra lasciata verso 42 therefore stay awake for you do not know on what day your Lord is coming vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà ora per favore guardatemi sto parlando su un tema dove sarai in quel giorno quando verrà il Signore dove sarai tu in quel giorno fedele quando Gesù apparirà per portare i suoi figli a casa la Bibbia dice che in Genesi 18 Dio è venuto a visitare Abramo e quando è venuto Abramo era al punto dove ha visto il Signore io credo che Sara non l'ha visto è per questo quando Dio parlava ad Abramo lei ha dubitato perché lei non sapeva che era il Signore che è venuto per visitare loro quindi la mia domanda è in quel giorno fedele quando apparirà Gesù dove sarai tu a me in qualcuno dove sarai tu e la Bibbia dice Genesi 19 loro sono entrati in Sodoma e prima di entrare nella città Lot si sedeva alla porta lo hanno trovato lui ha trovato il Signore è per questo quando veniva il fuoco per bruciare Sodoma e Gomorra Lot è stato redimito perché quando è venuto il Signore lui era nel posto appropriato nel tempo giusto ha visto il Signore la mia domanda è viene il Signore oggi dove sarai tu qualcuno è qui con me lui verrà lui verrà nulla lo fermerà lui verrà ma il punto è sarai tu nel posto giusto lo vedrai sentirei la sua voce andrai con lui oppure sarai lasciato indietro essendo lasciato indietro significa non ho bisogno di spiegarlo quando sei lasciato dietro fatemi raccontarvi questa storia su un giovane uomo che andava in Libia dall'Algeria a piedi sul deserto Sahara con la guida e un gruppo di persone e sul deserto se tu sei qui e lasci qui fino alla stazione non c'è differenza non puoi differenziare quindi il tizio loro hanno certe cose che usano per segnare i posti quindi quando dicono noi ci spostiamo e tu dici io sono stanco dopo tutto è una pianura quindi io vi vedrò fatemi riposarmi vi seguirò quella sarà la tua fine quindi questo tizio ha detto quando andava lui ha detto beh dopo tutto li vedo andare fatemi riposare un po' in pochi minuti quando ha alzato la sua testa non poteva trovare nessuno e lui vagabondava vagabondava andava in giro ma nello stesso posto ma il Signore lo ha favorito che durante la notte lui stava sentiva un cane che abbagliava e quindi ha cercato di avvicinarsi dove il cane si abbagliava e avvicinando un po' si è messo a dormire di là il Signore lo ha aiutato il giorno seguente erano dei pastori che prendevano cura delle pecore e quando lui è arrivato in Libia ha detto ha detto mai io mai quando il gruppo sta andando da qualche parte io mai indietregerò il Signore lo ha salvato questo quando il trasporto di Gesù Cristo o il volo di Gesù Cristo sta partendo e sei lasciato dietro lo hai a te e specialmente tu che ti fai chiamare cristiano amén quindi noi ci dobbiamo preparare e assicurare che siamo pronti nel posto giusto per riceverlo perché lui verrà whether you believe it or not Jesus will come Gesù verrà e lui dice the day he don't know lui non sa the angels don't know gli angeli non sanno Tsumberima don't know Tsumberima non lo sa only the father knows soltanto il padre lo sa quindi sarà come Gesù sarà lì e il padre dirà figlio mio ora muoviti spostati vai amén qualcuno sarà un caso urgente lui lo chiamerà mentre io e te non ci aspettiamo può essere notte può essere il tempo di lavoro può essere un tempo di matrimonio ceremonia può essere una presentazione non può essere un tempo dove sei nel tuo campo può essere un tempo dove tu stai trattando un contratto da fare può essere un tempo dove hai ricevuto il visto per andare in un posto dove hai desiderato essere la Bibbia dice la Bibbia dice quando viene tu in tutte le condizioni in tutti i luoghi in tutte le situazioni tu devi essere pronto altrimenti lui ti lascerà dietro e dice è come il tempo i giorni di Noé ci siamo loro erano mangiavano la domanda che ti devi chiedere è anche Noé mangiava oppure faceva digiuno per 120 anni cosa pensate cosa pensi mamma Becky anche lui mangiava hello amen but però abbiamo due tipologie di mangiare mangiare con tuo spirito mangiare con tua anima mangiare con tuo cuore mangiare con tutta la tua attenzione tutta la tua attenzione ti guiderà in inferno non so se capite ciò che sto dicendo abbiamo delle persone tutto ciò per cui lavorano è cibo quando parli del cibo loro possono darti tutte le tipologie del cibo è ciò che loro godono nella vita non pensano a niente siamo nati per vivere e goderci e goderci domani moriamo e poi è finito abbiamo quella tipologia di persone quindi Gesù ammonisci me e te quando il cibo è messo davanti a te ricordate perché tu sei pellegrino stai vivendo stai partendo anche la tua mano nel cibo ricordate quando hai preso il cibo con la tua mano e lo stai mettendo in bocca la tromba può suonare quindi comprendi che la tua attenzione il tuo cuore la tua vita non consiste non è dominata dal cibo altrimenti mangerai permettetemi di usare questa parola anche se non voglio sarai come una peccora e che è stato portato sui campi mangiando sapete come sono? è per questo che ci deve essere il pastore perché quando la peccora mangia non considera nulla ciò che fa è che la sua testa è giù così quindi il pastore deve essere di là a vegliare su di loro ha detto no mentre stai mangiando alza la tua testa perché la tua redenzione ti sta avvicinando mentre stai mangiando pensa alla tua partenza ci sono dei ristoranti i bar tutto in aeroporto ma quando vai in ristorante tuo comportamento è diverso dal sederti in aeroporto a mangiare in un ristorante qual'è la differenza? stai mangiando guardando il tuo orologio così che la tua partenza ti prende per sorpresa così che il cibo è così delizioso non ruba la tua partenza ma al ristorante nella città tu ti rilassi questo è ciò che sto cercando di dirvi eat mangi come se tu fossi in un ristorante in un aeroporto pronto a partire quindi guardi il tuo orologio e assicuri che presti attenzione all'annuncio per capire il gate dove fare il check-in così che il cibo non ti fa perdere la partenza Gesù dice vivi in questo modo vivi in questo modo viviamo in Italia se sei mai stato una volta in un ristorante perché alcuni di noi rimaniamo nel nostro partenza se non è il cibo del nostro paese non ci andiamo mai non c'è nulla sbagliamo ma se ti siedi in un ristorante con italiani a mangiare e allora se non hai tempo vattene possono essere di là anche prima che sarà pronto il primo piatto e aspetti il secondo sapete la distanza di tempo ma le stesse persone quando si siedono al ristorante in aeroporto il loro atteggiamento viene cambiato non lo fanno come lo fanno nella città quindi la Bibbia dice nel tempo di Noah c'erano delle persone che erano sbagliate che sapevano perché il tempo non appartiene a loro chi sono quelle persone Noah e la sua casa mangiavano ma nello stesso tempo pronti a parlare quindi quando Dio ha parlato hanno sentito la voce di Dio hanno lasciato il cibo sono entrati mentre gli altri mangiavano ancora questa non deve essere la tua porzione il seguente dice è una cerimonia del matrimonio è così bello è bello il sabato scorso non ieri ma quell'altro alcuni di noi eravamo a Perugia per testimoniare un matrimonio oh molto bello amè non c'è nulla sbagliato ma vi dico la stessa cosa facendo il matrimonio come cristiano e facendo il matrimonio come incredulo non deve essere uguale una cosa che mi dà dolore è quando sei principe sei principessa e non lo sai quindi meschi le cose insieme una donna cristiana vai a fare matrimonio e ti vesti e tutto fuori anche il modo di ballare mi ho testimoniato uno e ho detto nella mia mente quanto pena è che qualcuno sta mettendo il vestito vecchio e va a lottare con l'uomo forte con il vestito vecchio ciò che avrai di là non ti piacerà sapete il significato lui strapperà il vecchio vestito e la tua nudità sarà vista vai in quel matrimonio invece di benedizione tu vieni con maledizione perché non capisci dove stai la Bibbia dice il tuo matrimonio ceremonia il matrimonio non deve essere uguale come il mondo perché il tuo Signore è sulla strada sta venendo e quindi se dai la tua anima la tua fede il tuo spirito la tua attenzione pienamente a quel matrimonio senza pensare e che tu sei in attesa dell'aeroplano per partire ti lascerà dietro ogni cosa matrimonio matrimonio quando parliamo di Cristo no 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 a te non interessa ogni cosa per te matrimonio 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 e specialmente le figlie di Sion dai la tua attenzione solo a quello nessun consiglio vale per te anche se noi abbiamo visto il fuoco e ti diciamo attenzione c'è il fuoco no 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 they don't like me no 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 tu dici ma non mi vogliono vedere ora che io ho trovato un uomo lui dice che mi sposerà e dici questo io andrò io andrò per lui nulla è sbagliato ma ricordatevi quel fuoco ti sta aspettando non essere come la gente nel tempo di Noè amen qualcuno se dai qualcuno in matrimonio fallo ma nello spirito di attendere al tuo salvatore non permettere la tua alma il tuo spirito il tuo cuore la tua fede di essere in quel matrimonio e dimenticarti della tua salvezza perché quando arriviamo di là marito e moglie non ci saranno oh yeah non ci sarà nessun matrimonio di là hello amen we will not do wedding there non faremo del matrimonio di là l'unica cerimonia del matrimonio che faremo di là è tra di noi e Gesù è un matrimonio diverso ma uomo e donna matrimonio non ci sarà di là quindi non permettere al matrimonio di portarti in inferno hello learn from Mr. Lot impari da signor Lot lui ha fatto del suo meglio di portare sua moglie con lui ma quando ha visto che la donna non era pronta ciao ciao mia moglie l'ha lasciata dietro addio 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 non ci vediamo ancora era ciao ciao è la mia preghiera che tu sarai nella posizione dove il Signore ti troverà point number one how can I be ready for that day come posso essere pronto per quel giorno come posso essere nella buona posizione per che il Signore mi porta a casa o che sto mangiando sto bevendo mi sto sposando mi sto facendo affari sto viaggiando o che sto dormendo ammè qualcuno punto numero uno devi essere nato di nuovo in modo appropriato nato di nuovo ammè somebody be what properly you must be do what born again in modo appropriato tu devi essere nato di nuovo Giovanni capitolo 3 versetto 3 questo è Gesù che parla la scrittura Giovanni capitolo 3 versetto 3 dice era risposta al signor Nicodemo questa parola in particolare non è per quelli che sono appena venuti in chiesa no non è per la gente fuori solo ma è per vescovi pastori evangelisti profeti insegnanti singhers church leaders guida della chiesa perché in mezzo a noi ci sono tanti come Nicodemo come Nicodemo che non sono nati di nuovo qualcuno mi capisce sono frequentatori ma sono pastori frequentatori ma insegnano la Bibbia frequentatori della chiesa e profetizzano e insegnano Gesù disse in risposta Gesù mi rispose in verità in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio e come uno può essere nato di nuovo sei nato di nuovo quando senti la parola di Dio e credi la parola nel tuo cuore e confessi la parola di Dio con tua bocca e ti ravvedi dai tuoi peccati e dai benvenuto a Gesù nel tuo cuore e da quel giorno sei nato di nuovo quindi se tu predichi la parola e non hai fatto questo sei come Nicodemus Gesù dice quando suonerà la trompa non la sentirai non vedrai ci siamo anche se porti la veste da vestito se non sei nato di nuovo non vedrai non sentirai quando suonerà la tromba dice esaminati se Cristo è in te se sei nato di nuovo se il tuo nome è scritto nel libro dell'agnello a mente quando queste cose sono fatte sembra che stiamo parlando delle cose elementari le cose da scuola domenicale ma ciò che io vedo e sento nel nostro tempo tante persone forse erano nati di nuovo tanti anni fa ma oggi non sono più ma lo stesso predicano se hai lo Spirito Santo in te saprai ciò di cui vi dico loro staranno davanti al pulpito e non aprono mai la Bibbia ma predicano ci siamo insegnano ma mai praticano ciò che insegnano questo è pieno nella Chiesa quindi se tu vuoi essere nel posto giusto e sentire il suono della tromba e venire il re a venire e entrare nel regno Gesù dice sii nato di nuovo amm sii nato di nuovo amm punto numero due tieni la tua fede che hai ricevuto dal Signore tieniti la fede corri con quella fede perché abbiamo visto che nei nostri giorni la fede di tante persone si sta raffreddando stanno morendo nella fede guarda attenzione guarda vedrai se ancora credi nel Signore perché tante cose stanno colpendo la nostra fede le prove che attraversiamo le persecuzioni i tempi difficili la povertà a volte malattie a volte regezione anche dalla tua stessa casa dalla casa del Signore sta uccidendo tante fede amm ebrei capitolo undici fatemi leggere versetto uno e versetto sei mi potete per favore dare ebrei capitolo undici versetto uno e sei qui dice now faith is being sure of what we hope for and contain of what we do not see or la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazioni di realtà che non si vedono versetto sei dice thank you he says and without faith it is impossible to please God because anyone who comes to him must believe that he exists and he is the reward of those who endlessly seek him now without faith it is impossible to him because who is accosting God must believe that he is and that recompense all those who seek him E' per questo che l'Apostolo Paolo, quando ci stava parlando, in secondo Timotio capitolo 4, versetto 7, ha detto, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, e il punto dove mi è importante dice, ho mantenuto la fede. E Giacomo lo mette in questo modo, fede senza opere è morta. Sapete cosa significa? Fede senza opere è morta. E tanti di noi, abbiamo smesso di operare nella casa di Dio. Abbiamo smesso di fare ciò che facevamo, perché pensiamo che abbiamo lavorato troppo. Ora lasciamo il lavoro ai giovani. Ora non facciamo più nulla nella casa del Signore. Non siamo più attivi nella casa del Signore. Niente ci smove per toccare neanche la fede nella casa del Signore. Non ci uniamo più agli incontri delle fede. Questo è per i nuovi arrivi. Se la tua fede è arrivata a questo livello, io ti consiglio, vivifica quella. Torna dietro. Fai le cose che facevi prima. Quando hai creduto in Cristo in primi giorni. Perché a smettere di pregare e operare nella casa del Signore, significa che stai perdendo la tua fede. Non c'è dubbio in questo. È come tu, essendo in una fabbrica. Devi lavorare e produrre. E dici E tu dici Io sono più anziano in questa fabbrica. Quindi non lavoro più. Sarò presente. Ma non tocco nulla. Cosa ti succede? Ti manderanno via. Perché fai la stessa cosa nella casa del Signore. Prima Siccome la tua fede Era viva Quando arriva il tempo di preghiere Corri in chiesa E preghi Ma oggi La stessa persona Incontro di preghiere Ti dimentichi anche oggi è il giorno delle preghiere. Paolo dice Io Paolo Ho corso la corsa Ho combattuto il buon combattimento Ho conquistato Perché Lui ha mantenuto la fede E l'ebrei dice Senza quella fede Non puoi compiacere In altre parole La tromba suonerà E tu non la sentirei Perché sei morto Vivificati Vivificati È facile Che le cose ci prendono per sorpresa Perché viviamo in questo mondo Perché viviamo in questo mondo E può rubare qualcosa da te Senza che te ne accorgi Che qualcosa è andata via da te Diventi troppo occupato Le cose diventano difficili Troppo difficili per te Forse sei nei dolori È facile Che ti dimentichi Che non sei da questo mondo Quindi la situazione può catturare la tua attenzione Quindi tutti i tuoi sogni Tutte le tue visioni Tutti i tuoi desideri Sono spostati A questo mondo Stai morendo Amen Dopo la covid I nostri incontri Di venerdì Qui Sono diventati qualcosa Io desidero I vecchi giorni Dove facciamo Digiuni Di dieci giorni E venivamo qui Qui tre volte al giorno Oggi Ogni incontro È stato spostato Sullo Zoom Ma lo stesso Non fai parte Ci incontriamo qui In persona Solo venerdì E domenica E diventa difficile per te A essere parte Ciò che non hai saputo È che stai morendo Qualcuno è qui con me Ti stai raffreddando Qualcosa Viene presa via da te Gradualmente E prima che te ne rendi conto Tu sarai chiamato Un morto vivente E che il Signore ti aiuta E che tutti quanti noi ci svegliamo That's why That's why he says È per questo Chi dice You Tu Wake up Svegliati Amen Point number three Point number three Amen Somebody Wow Keep yourself Clean At all times Mantieniti puro In tutti Tutti i tempi Noi siamo nella sala d'attesa Ma le cose ti contaminano Quindi il consiglio è questo Se tu sei sveglio Allora sarai in grado di vedere Posso portare questo vestito in chiesa Vado fuori Posso indossare questo E poi mie sorelle A me piacciono come fate voi Poi state davanti allo specchio E cercate di pulirvi Significa I vostri occhi sono buoni Voi vi sottomettete Vi state vegliando su di voi La Bibbia dice La tromba suonerà Ma solo quelli Che hanno pulito Le loro vesti Avranno l'opportunità Di entrare Qualcuno è qui con me Se il tuo vestito è sporco Non sentirai neanche il suono Nemmeno vederlo Perché lui dice Io sono santo E tu Devi essere santo Ebrei 12.14 Ebrei 12.14 Cosa dice Amen It says Hear this all Make every effort To live in peace With all men And to be holy Without holiness No one No one No one Would do what Would see The law Ebrei 12.14 Wow Wow Dove dice Wow Wow Impegnatevi a cercare la pace Con tutti E la santificazione Senza la quale Nessuno vedrà il Signore Make sure Assicurati Every day Ogni giorno You watch your clothing Di vedere il tuo vestimento And why do you find this clothing E dove trovi questo vestimento You find one Ne trovi uno In your heart Nel tuo cuore You find one Ne trovi uno In your mind Nella tua mente You find one On this body Su questo corpo Make sure Assicurati You are Holy Santo That's why James says Giacomo disse Is it James or John He says He says Anyone who says I am without sin Chiunque dice Che io sono senza peccato Is a liar E bugi E bugiardo Why Perché We are human beings Siamo essere umani Isaiah said Who is me Why am I Why I am a man of one clear tongue Io sono uomo Della lingua in buro E anche Vivo tra la gente Che ha la lingua impura Significa Il tuo vestito La tua santità Can be contaminated Non solo da te Ma anche dalle cose Che tu vedi e senti Il posto dove vivi Dove ti associ La tua amicizia Le cose che guardi Le cose che senti Le cose che vedi Le cose che tocchi Possono contaminarti Quindi assicurati Di ravederti Quando vedi Che le cose non vanno bene Non dire che Ah ma io sono stato Nella fede per tanti anni Dice Senza santità Nessuno Questo non vale Vescovo No 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 I'm bishop No 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 It doesn't count Sono vescovo No Non vale I am bishop's wife It doesn't count Sono la moglie del vescovo Non vale Sono l'insegnante della scuola domenica Sono guida della lode adorazione Non vale Sono la più brava adoratrice nella chiesa Non vale Senza santità No one Will see the law From the greatest To the least So the bible says Repent Every day Confess your sins Every day Ask for the blood of Jesus To cleanse you Amen Keep yourself clean Mantieniti puro Your mind clean La tua mente puro Your heart clean Tuo cuore puro Your hands clean Le tue mani puro Your body clean Tuo corpo puro Watch out Attenzione Perché lui verrà E noi non sappiamo il tempo Amen somebody So the bible says We should keep ourselves pure Perché noi dobbiamo mantenerci puri As the bible has told us Come la bibbia ci ha detto Clean yourself Purificati Job chapter 22 Job capitolo 22 Tell us another way Of keeping ourselves clean Un altro modo per mantenerci puri Come with me Job 22 Venite con me I'm reading verse 21 He says Agree with God And be at peace Thereby God will come to you Job capitolo 22 Versetto 21 Dice Riconciliati dunque con Dio Avrai pace Ti sarà resa la proprietà Receive instruction from his mouth And lay up his words in your heart Ricevi istruzioni dalla sua bocca Riponi le tue parole nel suo cuore Se torni all'onipotente Se allontani dall'iniquità Due Scusatemi Se torni all'onipotente Se allontani l'iniquità dalle tue tende Sarai restabilito Se allontani l'iniquità dalle tue tende Se allontani l'iniquità dalle tue tende Getta l'oro nella polvere L'oro di Offir Tra i Ciottoli del fiume L'onipotente sarà il tuo oro E ti sarà come l'argento Acquistato con fatica Amen qualcuno Ricevi istruzioni dalla bocca di Dio E dove trovi la bocca di Dio? True holy preaching Attraverso santa predizzazione Gli insegnamenti dagli uomini di Dio Reading the bible Lettura della bibbia Mettendola in pratica Perché la bibbia Perché la bibbia È la parola di Dio La bocca di Dio ha parlato La bocca di Dio ha parlato Without holiness No one will see him Nessuno lo vedrà Quindi lui dice Prendi queste istruzioni E veglia sulla tua vita E assicurati Che le tue parole sono pure Il tuo pensare è puro Il tuo cuore è puro Il tuo vestimento è puro La tua relazione La tua relazione Con gli uni gli altri È puro Se fai questo Sei sulla strada maestra della santità Amen Punto numero 4 Come renderti pronto E essere nel posto giusto Mettiti l'intera armatura di Dio Devi avere questa mente in te Come figlio di Dio E che tu sei nel campo di battaglia Amen We are going to heaven Noi andiamo in cielo Where Satan was Dove era Satana And he has lost E lui ha perso Demons have lost I demoni hanno perso Angels have lost Gli angeli hanno perso You the human being Tu essere umano A clay Argilla A sinner Peccatrice Gesù è morto per te Ti porta in quel posto E tu pensi Nulla succede E vivi la tua vita in qualunque modo No, non finirai la corsa Perché non stai combattendo contro carne e sangue E' per questo E' per questo Che in attesa For the coming of the Lord Della venuta del Signore Metti l'armatura completa Assicurati Ogni giorno La indossi Do you see the peace Is it the peace Is it the peace Is it UN Or Yeah UN Amen in the Middle East Voi vedete Voi vedete L'esercito delle Nazioni Unite Nel Medio Oriente Italians are there Am I right? Ci sono italiani Ask yourself Fatevi questa domanda Loro non fanno parte della guerra Perché loro sono armati come quelli che fanno la guerra Ogni cosa che i giudei hanno E che gli iraniani usano I soldati Hanno la stessa cosa Am I right? Dico bene Loro sono quelli che fanno parte Quindi se quelli che cercano parte Loro si armano Per proteggere loro stessi Non ne parliamo di te Che stiamo combattendo Non puoi vivere la tua vita in qualunque modo Non ce la puoi fare te lo dico E per questo Attraverso la sua saggezza Ha dato a noi Come dice in Efesini capitolo 6 Venite con me in versetto 10 Siamo nel campo della battaglia Lui dice Lui dice Dice Scusatemi E put on the full armament of God He did not say The full armament of God So that you can take your stand Efesini capitolo 6 Versetto 10 Del resto Fortificatevi nel Signore E nella forza Della sua potenza Undici Rivestitevi della Completa armatura Di Dio Affinché possiate stare saldi Contro le insidie del diavolo Contro E tante delle volte Le insidie del diavolo Sono delle cose che noi non prendiamo in considerazione Che sono importanti Ad esempio È venuto da Gesù Con questa insidia Hai fame Sei il figlio di Dio Vi ricordate Ti ricordi Che Dio dice Può mutare questa pietra È nulla Almeno hai potere per creare tutto Solamente muta questo pane E diventerà il pane Ah non avrai più fame Sembra facile Sembra nulla Ma Gesù Ha capito Che questo È una delle insidie Mutare la pietra nel pane Non è il problema Ma sto facendo la volontà del nemico di Dio Quindi quel pane Non è il pane di Dio Anche se quando lo metti di là Saranno uguali Ma è il pane di Satana Gesù Che ha occhio E ha messo l'armatura E è stato in grado di stare Contro quella cosa Che noi la chiamiamo piccola Esempio ancora Dice Non hai bisogno di tutto Perché ti preoccupi di andare sulla croce E gli ha mostrato la bellezza La ricchezza La ricchezza La gloria Del mondo Soltanto fai così Oggi cristiani Questo fa niente Non fa niente Non fa niente Siamo nella grazia Fa nulla Guardando questo Sto imparando qualcosa Poi posso usare quella cosa In modo positivo Gesù Che ha l'armatura completa Ha capito Che questo Non è il saluto normale Soltanto inchinandoti così Per via di ciò che Satana ha detto Non è solamente Dar rispetto a un anziano Perché lo facciamo Se io voglio salutare il mio anziano Non sto dritto Vai e fai così Non è ciò che Satana cercava di fare Stava dicendo a Gesù Mi puoi adorare E ti darò questo Quindi sembra piccolo Piccolo Ma fratello Sorella Se non hai l'armatura di Dio Non puoi stare contro questo Dopotutto Lui dice che mi sposerà Quindi se apro la porta Intanto mi sposerà Ma ti sei dimenticato Che stiamo parlando della vita E maledizione Sai ciò che segue Quell'uomo o quella donna? Un incontro con quella persona Sai cosa ricevi? Ci hai pensato? Oh, I just give him a kiss Ah, gli ho dato solo un bacio Sei sicuro? Non è forse un bacio Non è forse un bacio Giuda usato per vendere Gesù? La saliva La saliva Dalla lingua di quella persona Dalla bocca di quella persona Sai cosa porta? E per questo che Giobbe dice Prendi istruzioni dalla bocca di Dio E mettili in pratica E lui ti edificherà Non è semplice Come pensi Gesù Soltanto solo prostrandosi L'ha visto come tradimento Verso Dio E l'ha rifiutato E sapete ciò che ha fatto Satana? Non lo ha lasciato Se era facile Lo avrebbe lasciato Lo ha preso ancora Lo ha mostrato una cosa bella Gettati giù Voi capite quel punto? Se Gesù avrebbe mutato la pietra in pane E prostrandosi a lui Lui si sarà impicato La gente che si impica Che si avvelena Che si uccide Questo è il luogo dove Satana li porta Dove che lui ha trovato il meglio da te Poi ti dice Ma per che cosa vivi? È meglio che muori Dopotutto Vai in cielo Ucciditi Questa non sarà la tua porzione Dunque la Bibbia dice Metti la matura completa Versetto 12 dice Versetto 12 dice Versetto 12 dice Versetto 12 dice Il nostro combattimento Non è contro Carne e sangue Ma contro i governatori Le autorità Contro le potenze di questo mondo Contro le forze spirituale Contro le forze spirituali Contro i dominatori di questo mondo Della tenebre Contro le forze spirituali E mi sembra di Malvagità Amen Ciò che Gesù ha visto Era questo Dietro al messaggio Ha visto dei demoni Ha visto potere Ha visto autorità Ha visto le forze spirituali Che potevano dominare la sua vita E distruggere la sua missione È per questo che lui ha rifiutato Amen Anche tu Metti l'armatura Così che Quando presentano il business Così bello Così attraente Così bello Quando l'uomo Giovane uomo Si è vestito Con la giacca di cravata Con il profumo Buono Prezioso Con la macchina Lussuosa E hanno un modo Che usano per parlare E tu dici Ah L'ho trovato Alleluia See behind that car Devi guardare Dietro a quella macchina Oltre quella macchina Nice laughter Ah Oltre quel bel sorriso See behind that long hair And nice E guardi Oltre Quelli lunghi capelli E quella bella donna Dietro a quello Perché Il tuo combattimento La tua lotta Non è contro Quello che vedi Ma dietro di loro Se il Signore Dovesse aprire i tuoi occhi Non starei di là Neanche per un secondo E la mia preghiera E che tu farai E che tu farai quello Versetto 13 dice Therefore Put on the full armor of God So that when the day of evil comes You may be able to stand With your ground After you Have done everything To stand Perciò Prendete la completa armatura Di Dio Affinché possiate resistere Nel giorno malvagio E restare in piedi Dopo aver compiuto Tutto il vostro Dovere Il giorno malvagio Chi conosce il suo E come verrà E dove verrà Amen Lo incontrerai Quello di qualcuno Accadrà nel suo matrimonio Di qualcun altro Sarà un problema della salute Di qualcun altro Sarà mancanza di soldi Di qualcun altro Sarà una certa persecuzione Di qualcun altro E qualcun altro Il suo è diverso dall'altro Ma colui che ha messo La completa armatura di Dio Sarà in grado di reggere Sarà in grado di dire Anche se I monti si spostano E si gettano nel mare La terra si spacca in due Anche se Gli olivi Faliranno di dare frutto Io non temerò Perché il Signore è con me Io amo morire in Cristo Che godere questa vita E andare in inferno E lui lo rifiuterà E chiamerà Leioni Animali feroci Vieni a mangiare la mia carne Come dice Paolo Sono pronto A essere versato Come una libazione Io sto aspettando Ricordatevi di questo Voi non siete Ciò che vi siete E vi siete seduti qui Questo è solo un tempio È come questo edificio E che i membri della Chiesa Lata Gloria Vengono dentro Per adorare il Signore Quando finiamo il culto Lasciamo questo edificio Questo è il tuo corpo Quindi qualunque cosa Signore Presidente Chi vuole uccidere la tua fede Sta cercando di uccidere il tuo vero essere Quindi rifiutala E fai che muore questo Perché la Bibbia dice Anche se moriamo Vivremo ancora Il cielo Sta venendo per te Per favore Renditi pronto In tutti i tempi Preghiamo Preghiamo Porta te stesso davanti al Signore Possiamo stare in piedi Per favore Vorrei che tu chiedi al Signore Di rinnovare la tua forza Se non hai mai dato la tua vita a Cristo Stamattina hai l'opportunità di farlo Forse sei in Cristo Ma ora Vedi che stai tornando indietro E ti stai deviando Vorrei che tu preghi E dire il Signore Oh Lord Oh Lord prepare me To be a sanctuary Pure and warm True and true Lift your two hands with me Let's sing Le due mani come Cantiamo ancora I'll be a living I'll be a living To be a sanctuary To be a sanctuary Pure and holy Pure and holy Try and holy Try and true Try and true Try and true Try and true With us giving I'll be a living I'll be a living I'll be a living I'll be a living Sanctuary Oh 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 Love prepare me Love prepare me To be a sanctuary Yore 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 Tried and true We just keep it I will be a living Oh sanctuary For you Pray this prayer with me Vai questa preghiera con me per favore Say Lord Jesus The Signore Gesù Today I hear your word I repent I repent I ask your cleansing From every sin Da ogni peccato Every defyment Ogni contaminazione Watch me by your precious blood Today Lord Jesus Oggi Signore Gesù I re-welcome you into my life Ti do benvenuto Ancora nella mia vita Be my Lord and my Savior Si mio Signore E il mio Salvatore Renew me in every area In the faith Walk with you Rinovami Rinovami In ogni parte Nel cammino Della fede contà Help me To be ready At all times Aiutami A essere pronto In tutti i tempi In Jesus name Nel nome di Gesù Amen Amen But to ask